E quindi a chi ha bisogno durante il suo percorso lavorativo, quali strumenti vengono messi in campo e come si risponde a questo? Ecco, noi riteniamo che qui ci sia un largo campo ancora da arare su cui lavorare, sia in termini di riforma, di compiutezza della riforma del mercato del lavoro che deve essere fatta, ma anche di concezione piena, cioè quella concezione del lavoro, quel modo di rispondere attraverso agenzie a cui tutti possono contribuire richiedono anche una profonda riforma dei servizi che prima rispondevano a chi rimaneva per strada o intoppava di fronte a delle difficoltà, meccanismi di agenzie che rispondevano puntualmente ad aspetti di singoli di vita e che andavano bene in una società in cui vi era un lavoro a vita per una persona in cui spesso il meccanismo industriale portava ad avere un solo o al massimo due cambi di lavoro durante un percorso di vita, oggi invece devono essere strumenti che stimolino a una formazione continua e che permettano a chi rimane per strada invece di passare sul serio da posto di lavoro a posto di lavoro, come si diceva un tempo con uno slogan, in modo tale da essere sempre assicurati al lavoro, in qualche modo. Credo che questo sia un cambiamento importante e necessario e che quindi ci impone l'applicazione di quello che noi abbiamo detto in termini generali di una sussidiarietà orizzontale nei servizi a partire dal lavoro, perché è la questione centrale e poi da questa si agganciano tutte le altre questioni del sistema di welfare, bene questo è un modo di declinare questo e di applicarlo in modo nuovo e questo invece deve andare avanti e richiede uno sforzo secondo noi aperto nella prossima fase come la tappa più importante. Credo che questa sia un po' la scaletta che vi segnalo della riflessione che la Compagnia delle Opere ha fatto e che vi voglio porre ai tre interlocutori che hanno accettato di venire a questo nostro dibattito durante quel meeting di quest'anno. Do la parola per primo all'Onorevole Maurizio Sacconi che sapete ha coordinato tutto il gruppo di lavoro dal libro bianco alla riforma Biagi per conto del governo, peraltro autore di un libro come segnalato anche da Positiva Chigiera La società attiva, manifesto per le nuove sicurezze, scritto da Sacconi e dal dottore Buani e dal professor Tiraboschi che ha al centro in fondo questa riflessione. Credo che sia il manifesto della società attiva se capisca di cercare di rispondere a questo cambiamento globale che porti a leggere quelle che erano le negatività di un tempo a cui rispondeva il sistema del welfare a essere invece proposte positive con cui un sistema di servizi si propone a persone adulte consapevoli e così via di utilizzare i servizi per stare invece in una società in cui essere pienamente partecipi. Do allora la parola all'Onorevole Sacconi per iniziare questo nostro giro di confronto. Ti ringrazio e ringrazio più in generale gli organizzatori del meeting di aver voluto dedicare uno spazio adeguato al tema del più spazio all'interno di questi intensi giorni di incontri al tema del capitale umano. La Compagnia delle Opere, ha ricordato poco fa Massimo Ferlini, ha svolto una forte azione politica nel corso di questi anni per sollecitare i decisori ad una più adeguata politica nei confronti del capitale umano. Ricordo tre anni fa circa Marco Biagi e in fondo CDO, in parallelo, partirono come, potremmo dire, anche come minoranze illuminate nel sollecitare un radicale rivolgimento del nostro mercato del lavoro, ritenuto un mercato del lavoro poco inclusivo, poco capace di garantire lungo tutto l'arco della vita la continua inclusione della persona e la continua possibilità per la persona attraverso un lavoro di qualità di realizzarsi e di incrementare continuamente la propria capacità in questo modo, essendo la persona in condizioni di dominare i cambiamenti e non di subirli pagando i prezzi dell'insicurezza, della precarietà o dell'esclusione sociale addirittura. Io credo che si debba ricordare soprattutto a coloro che anche orgogliosamente si autodefiniscono conservatori, ho letto oggi che Epifani ha annunciato la sua partecipazione nei prossimi giorni ad un dibattito qui al meeting fregiandosi del titolo di conservatore e dicendo che non lo nega del tutto, soprattutto se conservatore, significa dire che egli intende difendere i diritti dei lavoratori e però in questi termini mi permetto di tenere di difendere il tradizionale mercato del lavoro. È questo davvero il migliore dei mondi possibili? È davvero un mercato del lavoro? È davvero un assetto, quello che cronicamente ha avuto la nostra società, un assetto che valga la pena di essere mantenuto, conservato e non invece radicalmente rivoluzionato e la nostra è cronicamente stata una società attiva e soprattutto nel momento in cui entriamo nella dimensione dell'economia della conoscenza, dove la competizione si fonda sulla capacità di ciascun paese di apprezzare e valorizzare fino in fondo il proprio capitale umano. Il nostro è stato, è cronicamente un paese adeguato a questi nuovi paradigmi della competizione e allo stesso tempo è un paese che si possa definire giusto perché produce alti livelli di inclusione? È la nostra una società, ha avuto le caratteristiche di una società attiva? Io penso di no, insieme abbiamo pensato di no, perché quando constatiamo che nel nostro paese vi sono stati i più bassi livelli, i più bassi tassi di occupazione regolare tra i paesi industrializzati, ancora oggi siamo al 24esimo posto su 25 paesi dell'Unione, quanto a tassi di occupazione regolare, il tasso di occupazione generale, il tasso di occupazione delle donne, il tasso di occupazione degli anziani ci vedono agli ultimi posti e in parallelo abbiamo l'abnorme dimensione del lavoro sommerso, quando registriamo tra i più bassi tassi di scolarizzazione, anche considerati per diverse classi di età e i più bassi tassi di apprendimento continuo, quindi bassi livelli di investimento nella persona. Quando registriamo nella nostra società una esigua dimensione della cosiddetta mobilità sociale, cioè ragione che è stata non secondaria per volere una riforma del sistema educativo quale la Moratti ha disegnato, questa della poca mobilità sociale, quale è prodotta dal nostro sistema educativo. È la nostra una società nella quale facilmente si determina una mobilità territoriale e anche per guardare le componenti nuove della nostra società. Abbiamo saputo governare i flussi migratori in termini tali che essi abbiano concorso alla qualità, alla dimensione qualitativa del nostro capitale umano o non li abbiamo piuttosto subiti in termini tali che ora spesso questi flussi migratori danno luogo a fenomeni di esclusione sociale con il venir meno di quelle produzioni tradizionali che si trasferiscono altrove e che producono una disoccupazione più facilmente destinata al lungo periodo. E proprio a questo proposito della disoccupazione di lungo periodo non abbiamo sempre avuto noi cronicamente il primato della disoccupazione di lungo periodo, ovvero quel primato per cui persone che hanno perso il posto di lavoro per oltre 12 mesi non vengono neppure contattate per un colloquio di orientamento professionale, sono abbandonate a se stesse da un'assenza totale di protezioni, di reti che intervengano tempestivamente, individuino tempestivamente colui che si trova in una condizione di esclusione per poterlo immediatamente riportare all'interno del mercato del lavoro. Cronicamente questo nel nostro paese non è stato. Tra le ragioni di questo sistema rigido che non presenta quelle flessibilità, quel dinamismo che lo rende capace continuamente di richiamare in gioco le persone, di non abbandonarle a se stesse, di non lasciarle abbrancolare nel buio a cercare un'opportunità di lavoro, che fariseicamente ha assistito allo sviluppo, all'esplosione delle improprie flessibilità come le collaborazioni coordinate continuative, monumento al fariseismo, perché le collaborazioni coordinate continuative si sono sviluppate proprio in quegli anni 90 in cui allo stesso tempo si diceva che quello era il migliore dei mondi possibili, che quel mercato del lavoro non si doveva toccare e il mercato poi si vendicava con forme non a caso tollerate. Un vero e proprio mercato del lavoro parallelo di serie B con caratteristiche di precarietà e di precarizzazione che non hanno in generale costituito le premesse poi di un lavoro di qualità. Questa condizione doveva essere significativamente rivoluzionata. Quel giovane in realtà, come dice la presentazione del convegno, quando va bene, quando si laurea non entra nel mercato del lavoro a 22 anni. Nel nostro paese entra mediamente se si laurea e non si laurea generalmente in ingegneria, purtroppo si laurea in discipline che non appartengono magari alla scienza, alla tecnologia, alla matematica, come ci inviterebbe un po' di più a fare la strategia europea per l'occupazione detta di Lisbono. Ebbene, quel giovane quando anche si laurea, e abbiamo detto in misura tra le più basse d'Europa, lo fa a 27-28 anni in media e si presenta, se ha questo titolo universitario, a quell'età nel mercato del lavoro. E a quel punto tradizionalmente non ha potuto avvantaggiarsi di anelli di congiunzione tra il momento dell'apprendimento di base e il momento del rapporto di lavoro. E poi, quando perde il posto di lavoro, anche in aree come queste, anche nel ricco nord, nel ricco nord-est dal quale provengo io, quando perdi il rapporto di lavoro e soprattutto se è un cinquantenne o se è una donna quarantenne, egli è destinato o a viaggiare ai margini del mercato del lavoro, in forme di lavoro sommersi o precarie, o ad uscirne definitivamente, pur in mercati del lavoro nei quali continuamente viene ribadita la carenza di mano d'opera e per i quali si invocano flussi migratori, spesso anche accriticamente da parte di molte organizzazioni imprenditoriali. A tutto ciò abbiamo cercato di porre rimedio con un complesso di riforme. Quel libro è stato annunciato che uscirà, purtroppo speravamo di farlo per il meeting e uscirà invece fra una decina di giorni in libreria, cerca di descrivere la visione che ha unito le riforme del sistema educativo, del mercato del lavoro, del sistema previdenziale e le politiche per la famiglia in un paese, tra parentesi, che dal punto di vista della società attiva ha un indicatore terrificante, quello di essere il paese a più alto tasso di invecchiamento come conseguenza dei bassissimi tassi di natalità e per fortuna dell'allungamento dell'aspettativa di vita. Questa visione di una società attiva, di una società dinamica ha ispirato questo percorso di riforma con lo scopo di ridefinire dalla culla alla tomba, secondo lo schema tradizionale del nostro welfare, quelle protezioni, quelle nuove sicurezze che sostituiscano le sicurezze di un tempo sempre più effimere, quasi come una sorta di terreno destinato via via a sgretolarsi che quindi costringe a passare il guado verso un'altra corrisponda che vogliamo sia autosostenibile, secondo una logica che banalmente potremmo dire dai pesci alle canne per pescare, dalle provvidenze che riparano i guasti del sistema capitalistico invece agli strumenti di auto occupazione, di apprendimento, di occupabilità che consentano cioè alla persona di vivere questi cambiamenti inesorabili di questo nostro tempo come opportunità e non come rischi, di avere la capacità di concorrere non solo con altri a dominare insomma questi cambiamenti e quindi accompagnando la nostra società ad uscire dalle condizioni di scetticismo, se volete talora anche di cinismo che caratterizzano molto il nostro tempo come conseguenza della sfiducia nel futuro, credo che non sia retorico dire che dobbiamo invece proprio attraverso un nuovo welfare delle opportunità, una nuova welfare community non solo quindi uno stato sociale come dicevi tu ma una comunità che sa offrire questo sistema di moderne sicurezze attraverso questa via riappropriarci del futuro, avere nei confronti del futuro quell'atteggiamento positivo che questo tempo merita perché in fondo questo tempo significa anche la possibilità di lavori non più ripetitivi, di lavori che a qualunque livello richiedono intraprendenza, creatività che richiedono quindi capacità nella persona che non si acquisiscono soltanto all'interno di un'azienda ma che sono il frutto di una vita più completa, di sensibilità che consentono insomma di essere davvero occupabili perché non idonei soltanto ad eseguire ordini gerarchicamente impartiti. La riforma del sistema educativo voi sapete che è tutta orientata al contrasto dell'abbandono scolastico, di quel drop out anche di cui parlavamo prima e sappiamo quanto un certo ideologismo abbia cercato di contestare definendolo una sorta di canale di serie B, quello di carattere professionale che invece costituisce un modo con il quale recuperare persone che altrimenti precocemente lasciano un percorso di apprendimento e allo stesso tempo la riforma Biagi ha disegnato i nuovi contratti di apprendistato in modo che anche la scelta lavorativa ove precocemente effettuata non significhi la rinuncia a quel diritto dovere ai 12 anni di apprendimento che non è sufficiente enunciare ma per il quale diritto dovere è necessario invece approntare strumenti che lo rendano effettivo. Allo stesso tempo la possibilità di tirocini, di apprendistato di alta qualità, abbiamo chiuso nei giorni scorsi un accordo con la Regione Veneto ed è stato il primo accordo per sperimentare un percorso lavorativo che consenta di conseguire un titolo universitario partendo da alcuni master, da 5 tipologie di master per un centinaio di persone proprio a sottolineare la possibilità attraverso il lavoro anche di un certo percorso lavorativo certificato dall'università con un'intesa cioè tra università, organizzazioni dei datori di lavoro e regione e ministero di conseguire come dicevo un titolo universitario. Io segnalo soprattutto la consapevolezza che noi abbiamo di dover completare questo percorso di riforma, quello che abbiamo realizzato cioè con l'anagrafe del lavoratore, con la pluralità degli operatori pubblici e privati, con la borsa del lavoro di cui credo anche Guglielmo dirà perché la Regione Lombardia è in qualche modo la regione pilota per la costruzione della borsa del lavoro di completare questo percorso con la riforma degli ammortizzatori sociali, ne siamo consapevoli cioè della necessità di completare con questo fondamentale tassello la riforma affinché soprattutto le regioni dispongano dei vari pedali che consistono nella rete dei servizi per l'impiego, nella borsa del lavoro quindi nel sistema di servizi che non lasciano a sé la persona, in un'adeguata capacità di formazione continua che sappia intervenire soprattutto quando vi è più bisogno e certamente nel momento per esempio della disoccupazione, anche attraverso i nuovi strumenti come i fondi interprofessionali gestiti bilateralmente dalle parti sociali e infine ammortizzatori sociali a partire dall'indennità di disoccupazione di dimensione più adeguata passerà da 6 a 12 mesi dal 40 al 60% dell'ultimo reddito nel primo semestre per poi scendere al 40 al 30 nei due trimestri successivi in modo tale che l'integrazione al reddito sia adeguata sia robusta ma sia anche responsabilizzante la persona e la si possa percepire nella misura in cui contemporaneamente si ricevono quei servizi e a quei servizi peraltro responsabilmente si corrisponde perché se a quei servizi invece non si corrisponde perché si dimostra disinteresse alla ricerca di un'altra occupazione quelle stesse provvidenze inesorabilmente si perdono perché non può non essere richiesta questa responsabilità della persona per il ritorno, reingresso quanto più tempestivo nel mercato del lavoro. Noi abbiamo di fronte soprattutto nell'area, io penso a casi come Arese, noi non possiamo consentire prorga infinite di cassa integrazione in una condizione come Arese anche se per Arese vi può essere un progetto di medio periodo di reindustrializzazione dell'area ed è senza dubbio interessante il disegno che la regione ha del sviluppo di un polo dedicato all'auto ecologica in quel contesto ma perché non pensare che quei lavoratori nel frattempo possono ritrovare un impiego in un'area dinamica e ricca come quella di questa regione o quando assistono il mio territorio alla chiusura di aziende per processi di delocalizzazione è come non pensare che quei lavoratori devono essere necessariamente e possono e devono perché possono in quel contesto almeno essere accompagnati da posto a posto di lavoro con il concorso di vari attori inclusa l'azienda che ha deciso di localizzare altrove quelle produzioni. E' possibile doveroso dimostrare la possibilità di quello che gli inglesi chiamano welfare to work, cioè il welfare, l'insieme di protezioni verso il lavoro e non verso l'uscita dal mercato del lavoro come spesso queste protezioni sono. E infine segnalo la nostra volontà di promuovere un piano di svuotamento del bacino delle collaborazioni coordinate e continuative, quantomeno per tutte quelle che sono improprie. Dice quella definizione del convegno che un giovane può passare da un posto di lavoro precario all'altro. Ebbene se noi avremo l'anagrife del lavoratore saremmo in grado di vedere il formarsi di precarizzazione. Ma mentre in altri casi in un contratto formativo come in un contratto di apprendistato per quanto a termine esso appare costituire la premessa per un lavoro di maggiore qualità, esso appare avere un contenuto di lavoro e di formazione insieme che ragionevolmente consente alla persona di arricchirsi nel caso del lavoro subordinato nascosto entro una collaborazione coordinate e continuativa, noi non possiamo non preoccuparci del fatto che in quelle condizioni invece la prestazione lavorativa non costituisce ragionevolmente ponte per una migliore opportunità di lavoro. Questo non significa eliminare le collaborazioni coordinate e continuative ma ricondurla alla loro funzione di lavoro indipendente che come tale deve essere orgogliosamente vissuto perché il lavoro indipendente può dare grandi possibilità di realizzazione della persona e quindi la persona può essere stimolata a ricercare una pluricommittenza per questo lavoro indipendente. Ma certo non possiamo considerare in lavoratore indipendente quella co-co-co in cui si nasconde un manovale edile o in cui si nasconde una funzione di segreteria delle più classiche e delle più tradizionali. Ed è proprio alla faccia di tutte le critiche semplificatorie rivolte alla legge Biagi e proprio quella precarietà farisaica che stiamo cercando di contrastare verrebbe da dire davvero quella vecchia battuta che dice essi amano talmente i poveri che si ingegnano a produrli. Lo dico per quelle organizzazioni anche sindacali che volendo rappresentare i collaboratori coordinati continuativi hanno quasi voluto difendere quella condizione anziché promuoverne il superamento. Quasi gelosamente a voler costruire un serbatoio di iloti, di disperati, di precari da usare politicamente anziché lavorare per svuotare quel bacino e far evolvere quei rapporti di lavoro verso un lavoro di maggiore qualità. Ecco io concludo davvero. Questo percorso ovviamente è solo all'inizio perché poi gli strumenti, gli istituti stanno via via andando a regime, grandi riforme di questo genere come quella della scuola, quella del lavoro e in fondo quella della previdenza che ha caratteri di assoluta complementarietà stanno via via entrando a regime e hanno bisogno di essere implementate e potranno essere implementate soprattutto con il dialogo sociale. Io credo che il dialogo sociale sarà strumento fondamentale per l'implementazione di questo percorso di riforma anche perché in esso ritorna ricorrentemente la delega alle parti sociali della funzione di attori di sussidiarietà. Molto spesso le parti sociali attraverso la bilateralità, gli organismi bilaterali sulla base delle buone pratiche che nel nord e nel nord-est si sono verificate soprattutto nell'artigianato, le parti sociali, dicevo, possono svolgere funzioni di interesse pubblico, funzioni cioè di inclusione nel mercato del lavoro, ma più in generale, il filmato di prima lo dimostra, noi dobbiamo rivolgerci a una vasta gamma di esperienze di soggetti che possono concorrere a questi obiettivi uscendo da quella sacralità, da quella impropria sagralità del mercato del lavoro che lo vede soltanto idoneo a funzioni pubbliche, servono e come le funzioni pubbliche, sono in qualche modo infrastrutture fondamentali, ma intorno ad esse serve una grande vitalità di soggetti, serve una welfare community, cioè una comunità tutta rivolta all'inclusione nel segno di quella società attiva che sola può essere insieme giusta e competitiva. Grazie, l'onorevole Sacconi, do ora la parola all'assessore della regione Lombardia, Alberto Guglielmo. Grazie. Per continuare su quello che diceva adesso il sottosegretario Sacconi, ma per rifarci anche al titolo di questo meeting, il nostro progresso non consiste nel presumere di essere arrivati ma di tendere continuamente alla meta. Vuol dire che chi gestisce la cosa pubblica, chi se ne fa carico, non può pensare di risolvere il suo problema e di averlo risolto perché ha fatto. Deve continuare a mente fare e rinnovare perché deve essere al passo non tanto dei tempi che cambiano, ma con le aspettative di chi l'ha delegato alla risposta che gli viene data. Allora se è così, e se è così che sta cambiando il mondo del lavoro, ma soprattutto il mondo dell'approccio fra imprese e lavoratore, va tenuto conto che questo non può presumere dalla persona, non può presumere dal valore fondamentale che il lavoro dà nella dignità del fare una cosa e di questa cosa come la si fa. E così come nell'inizio del secolo, a fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, in tutta la rivoluzione industriale la macchina diventava l'elemento fondamentale di novità della produzione. Era la macchina, l'evoluzione della macchina stessa che dava a un prodotto una qualità e così per molto tempo si è passati a pensare che l'innovazione tecnologica dentro un sistema impresa, dentro un sistema anche di ricerca, fosse tutta devolta a com'era funzionare la macchina rispetto alla produzione, bisogna avvertire questo rapporto, bisogna riporre al centro dell'attenzione il capitale umano, cioè l'uomo, quello che fa funzionare la macchina, quello che è in grado con la sua intelligenza di modificare di volta in volta i processi e rendere questi processi più attuali a un mondo che sta cambiando, ma soprattutto a una concorrenza che le imprese di volta a volta hanno rispetto al prodotto ultimo finale. E così sempre di più l'innovazione tecnologica entra nell'impresa e sempre di più chi faceva un lavoro deve cambiare il suo modo di fare il lavoro, non quello che sta facendo. Facciamo un esempio. Se io facevo il tornitore, il mio rapporto con la macchina era un rapporto diretto, cioè io creavo con la mia abilità e con la mia manualità il prodotto ultimo. Fare il tornitore oggi è un camice bianco, digitare sulla tastiera, impostare dei programmi, dei logaritmi. Cioè non è che il processo è cambiato rispetto alla produzione, ma le specifiche che vengono chieste al lavoratore sono totalmente diverse. Allora se far questo vuol dire cambiare rispetto a un mondo che incambia, bisogna tener conto di un altro aspetto. Bisogna tener conto che quando si parla di flessibilità del lavoro, di flessibilità del lavoratore, di spostamento del lavoratore da un luogo a un altro, indipendentemente dal luogo originale o dal luogo di origine, bisogna pensare che bisogna dare al lavoratore qualcosa in più, la certezza non tanto di un percorso che lo tenga legato a un lavoro che fa, ma la certezza che ci sia dietro un ente pubblico che lo tutela nei servizi che gli rende, che lo tutela nella sua crescita, che lo tutela nel farlo stare dentro un sistema economico non per la parte di progetto che gli viene affidata, ma per qualcosa di più ampio che è il contratto di sei mesi, che è un rapporto costante fra lui, l'impresa e chi deve tenerlo aggiornato. Allora parlare di precarietà o di flessibilità del lavoro vuol dire soprattutto oggi parlare di tutela, tutela dei lavoratori ancora di più di quei lavoratori che hanno un contratto indeterminato, perché è diverso l'apporto che loro hanno col mondo dell'impresa. Allora se tutto questo sta, sta dentro una logica che è una logica di come io imposto il mio fare. Pensate che quando si parla di scuola e si parla di una scuola, quella italiana che ha raggiunto degli standard anche buoni dentro un panorama europeo, noi dobbiamo sapere che su ogni due diplomati che finiscono un corso di studio, uno farà una cosa diversa rispetto al ciclo di scuola che ha preso. Ci vuol dire che noi stiamo buttando via il 50% delle risorse investite su quel capitale umano, perché rispetto alla formazione che è stata data, lui fa altro. Allora tutto questo può continuare a stare dentro un sistema? Può continuare a stare dentro un percorso che non tenga conto delle due cose? Ci sta, ci sta perché dentro questo percorso quello che mi viene chiesto è quello che viene chiesto e che io dia una risposta. La risposta è quando si parla di questo, si dice che oggi come oggi l'investimento in capitale umano rispetto all'azienda equivale a due terzi di quello che è l'attività economica di quell'impresa, cioè il lavoratore che produce vale due terzi di quello che è il valore dell'impresa stessa. Allora bisogna dimostrare che quando si parla e si dice a un giovane, tu farai un lavoro a tempo determinato, bisogna rendere evidente che questo non sarà un lavoro a tempo determinato per tutta la sua vita. C'è lo che non passerà di sei mesi in sei mesi, di azienda in azienda, perché si disperde la capacità occupazionale del ragazzo, del lavoratore, ma si disperde la capacità occupazionale dell'impresa, che nell'ambito formativo della sua riformazione del lavoratore ci investe e ci ha investito. Tant'è che quando si parla di lavoro e ancora oggi si parla in Europa di lavoro rispetto a Lisbona, si dice che bisogna attendere al lavoro indeterminato, come lavoro ultimo finale rispetto a un percorso che viene dato rispetto a una partenza o a una ripartenza che può essere di tempo indeterminato. Su questo passaggio si gioca la vincita o la perdita secondo me del rapporto di un lavoro che è cambiato. Al di là dell'articolo 18 che tutela o non tutela, qui quando si parla oggi di lavoratori e dei lavoratori a tempo determinato si parla anche di persone che tendenzialmente devono mettere su casa, che devono dare una risposta adeguata a un bisogno che è oltre il lavoro. Come far star dentro la sua capacità di lavoro rispetto all'altro bisogno? E il lavoratore a tempo determinato ha un vantaggio ancora di più, nel senso che quando qualcuno gli chiederà delle garanzie, lui dice io ho questo lavoro, non sapendo che questo lavoro è indeterminato solo sulla carta, l'azienda può sempre chiudere, ma l'istituto di credito al primo concede il mutuo, al secondo non gli dà nulla. Così viene meno che la società a cui chiede al lavoratore uno sforzo in più e che non corrisponde in molti casi neanche a un salario maggiorato, vista la precarietà del rapporto del lavoro, ma in alcuni casi è salario inferiore rispetto a prestazioni di lavoro, non gli dà neanche le garanzie ultime e finale di un percorso che è oltre il lavoro stesso. Allora se tutto questo sta dentro questo sistema di rapporto, vuol dire che l'ente pubblico deve assolvere un compito, assecondare la sua crescita occupazionale, la sua volontà di sviluppo. Abbiamo fatto fare un'indagine nell'Università Bocconi e Cattolica, che dice una scusa semplice, che quelli che in un periodo di lavoro che era legato all'ultima parte del 2002 e alla prima parte del 2003 hanno subito una cessazione di lavoro e che poi sono ripartiti, ma l'hanno comunque subita in una ragione come quella della Lombardia anche per un periodo superiore ai tre mesi, sono le persone, gli uomini che hanno oltre 45 anni dai 45 ai 50 e le donne dai 40 ai 44. Cosa vuol dire? Che io ho due problemi, non devo solo fare entrare dentro il mondo del lavoro chi vi arriva, devo impedire o devo tenere conto che quelli che ci sono non possono uscire e non devono uscire. A questo punto quando si parla di formazione continua o si parla di formazione per tutto l'arco della vita, si parla di una cosa reale, si parla di un bisogno rispetto a una risposta. Da risposta qual è? Quella che l'impresa può essere artefice solo lei della domanda e dell'offerta? Solo lei di determinare lo spostamento territoriale? Solo lei del fatto stesso che decide quale produzione e quale produzioni fare o interrompere? in parte sì, in parte no. Cioè non ci può essere una forma di lavoro flessibile se non c'è un'adeguata, non vorrei rubare un pezzo di quello che viene dopo, una regola uguale ma diversa tutela cambiando i rapporti, cambiando il rapporto fra quello che è lavoro determinato e lavoro indeterminato, ma con le stesse garanzie per entrambi, con la stessa certezza di percorso per entrambi. L'altro aspetto fondamentale è che quando noi parliamo di questo, parliamo dentro un sistema che ormai ha deciso quali sono le sue regole, dentro un sistema in cui ha deciso che per esempio se una volta, cito solo gli anni 80, per poter avere occupazione bisognava che il PIL crescesse del 22%, oggi si ottiene occupazione anche nei settori terziari dove l'occupazione era più difficile da ottenere, con una crescita diversa, con una crescita molto molto più bassa. Vuol dire che se in questo Paese non c'è una crescita del 3-4% stabile, anche i lavoratori che sono oggi considerati a termine, che sono lavoratori determinati o non a tempo determinato, hanno la difficoltà di pensare che questo sistema economico possa reggere, perché senza sviluppo economico e crescita di PIL non è possibile stare dentro il mondo del lavoro, a meno che questo non sia apparente, non certo e non sia calibrato. Il problema ultimo finale a questo punto è che se io ci credo ci devo scommettere, se ci devo scommettere ci devo investire. La Regione ha stanziato e non tanto su risorse sue, ma su risorse comunitarie che gli erano destinate, a questo e ai lavoratori in ingresso, ma anche a quelli che dentro il mondo del lavoro permangono, risorse ingenti. Ci abbiamo messo a servizio 400.000 servizi di orientamento individuali alla persona, attraverso i voucher, 150 operatori che lavorano in questo settore, 1.500 offerte di lavoro con curriculum intestinati. Abbiamo creato un sistema, creato un sistema che non è soddisfacente della mia vocazione, ma di quello che uno si aspetta. E così, dentro lo stand della Regione Lombardia potete vederlo, se alcuni già lo accennava, abbiamo creato la Borsa del Lavoro. Non è una novità astratta, è figlia della legge Biagi, è l'applicazione della legge Biagi. Siamo noi l'unica regione che la farà? Sicuramente no, perché tutte quante la stanno attuando e la faranno. Sarà forse la risposta ultima finale al problema dell'occupazione? No, perché la risposta ultima finale è certamente quando ci sarà il portale nazionale del lavoro e a questo portale nazionale del lavoro tutte le regioni, tutte le province, tutti i comuni faranno riferimento. È chiaro che qualche regione più avanti, qualche regione verrà, sicuramente il Veneto sarà prossimo a venire nei prossimi giorni e quindi a questo punto cosa fa? Due regioni dialogano, due regioni cominciano a fare sistema, due regioni cominciano a porsi sul mercato. Oggi parlare di computer e di informatica può sembrare strano, nel senso che i miei figli hanno molta più manualità rispetto a un computer di quanto io arcaicamente ho sulla penna. Però il problema è che non in tutte le case si sta un computer, non in tutte le famiglie oggi un computer o internet è collegato. E così ci eravamo posti un problema come far diventare possibile e fruibile il mondo del lavoro, come far diventare fruibile e visibile la capacità anche di trovare posto di lavoro. E grazie a un accordo fatto con media video e con televideo oggi è disponibile offerte e domande di lavoro semplicemente sul televisore. Cosa fa il televisore? Il televisore interagisce oggi solo in un modo, tu schiacci, lui ti dice basta. Quando ci sarà il digitale terrestre interagirà in modo diverso, ma allora sarà un altro aspetto della vita. E su questo televideo già oggi appaiono le offerte di lavoro che in regione Lombardia sono libere e disponibili. Guardavo oggi la prima pagina e la maggiore offerta di lavoro mi ha stupito e animatore turistico. Io pensavo che Lombardia fosse patria di molte verità, ma non anche quella del turismo. E invece via via che guardi e poi dividendoli per le province scopri che tutto questo mondo è cambiato e che i lavori sono cambiati e che modo di rapportarsi è cambiato. Occorre pensare dentro questo sistema che i nostri figli che permangono per molto tempo dentro le famiglie e che nessuno di noi nega mai un titolo di più, oggi stanno dentro un sistema universitario chiedendoti posso fare la laurea breve? E poi scoprono che siccome la laurea breve l'hanno raggiunta forse è meglio aggiungere due anni e scopri che a 26 anni iniziano un percorso diverso da quello che è scolastico e da quello che è rapporto con te stesso. Allora se la battaglia vera si vince sulla flessibilità, si vince dimostrando che dentro questo sistema il Paese, ma il Paese che legifera, il Paese che ha le capacità anche finanziarie, crede veramente nell'occupazione. Io ho appreso dai giornali e ho visto in televisione che il neo nominato ministro Buttiglione, adesso commissario europeo, ha deciso che forse è opportuno che le quote non siano più in dialoganti col Ministero del Welfare, ma direttamente con l'impresa. Io ho scoperto con grande piacere che a questo punto lui doveva vedere il Presidente della Confindustria, non ne faccio una polemica, ne cito semplicemente un passaggio. Quando si parla di lavoratori extracomunitari e di quote, non si parla semplicemente solo di forza lavoro, si parla di un problema sociale. Un lavoratore extracomunitario ha tutti i diritti e tutta la dignità di un cittadino italiano. Quando viene qui a lavorare deve essere inquadrato come tale, deve rispondere a una logica che è quella del bisogno. Il bisogno è il posto di lavoro, è insieme all'impresa della casa, il congiungimento familiare. È possibile delegare tutto questo a una mera contrattazione sulle quote con l'imprenditore che oggi ne ha bisogno 20 e domani forse non ne ha bisogno, senza che questo sia visto dentro un contesto più vasto, che è la decisione stessa di condividere con altri popoli una difficoltà che è la sua nel trovare lavoro, ma è la mia nel trovare chi non fa il suo lavoro. Perché va detto che anche quelli che vengono qui fanno lavoro che in molti casi gli italiani non vogliono fare e ci hanno elevato come i nostri migranti hanno elevato gli americani all'inizio della loro crescita di paese. Allora se tutto questo è, deve stare dentro un sistema in cui io mi rapporto con l'impresa, con il lavoratore, ma mi rapporto dando loro la certezza che il mio cambiamento e la mia precarietà è solo per dire a loro il lavoro c'è, il lavoro facciamolo insieme e certamente senza che io ti abbandoni mai, perché non voglio che nessuno di voi esca da un ciclo produttivo, perché dietro non c'è un lavoratore, dietro c'è una famiglia, una persona, una possibilità, soprattutto dietro c'è un uomo. Grazie Giulietto, d'ora la parola a Savino Pezzotta, segretario generale della Cisla, annunciando anche che proprio prima di iniziare il dibattito con la Cisla il presidente nazionale della Compagnia delle Opere Vignali ha confermato e rifirmato, aggiornandolo, l'accordo quadro sul mercato del lavoro che avevamo in corso da anni, in modo tale da produrre e portare avanti assieme anche l'esperienza delle piazze del lavoro a cui abbiamo dato vita. La parola a Savino Pezzotta. Beh, continuiamo a lavorare. No, io la prima cosa io ringrazio per l'invito ad essere qui oggi, anche perché, ma solo perché la frequenza al meeting ormai è tradizionale, ma perché questo è un luogo dove si può discutere senza schierarsi. Vedete, c'è ormai un vezzo anche nei confronti dei sindacalisti. Quando io ero un sindacalista bambino, ai sindacalisti normalmente gli si chiedeva quanto vuoi o quanto chiedi se si discuteva dentro il sindacato. Adesso hanno cambiato tutto, adesso gli dicono da che parte stai e con chi stai. No, ecco, allora il venire in un posto dove non mi si chiede con chi sto, perché sanno che stiamo comunque da una parte sola, perché è il nostro mestiere, dalla parte dei lavoratori a me fa un immenso piacere di questo. Vi ringrazio. Ma guardavo il tema di questa tavola rotonda, il tema è un tema interrogante, se non un posto, almeno un percorso. ed è un tema profondo e credo che sia un'interrogazione che viene posta a tutti noi, perché ci fa riflettere su che cosa veramente sta cambiando. E questo, diciamo, slogan della tavola rotonda mi richiama a uno che ho letto giù da basso, passando nel vedere il meeting, che diceva, pellegrini ma non vagabondi. Vedete, sono due cose che si accompagnano. E che presuppone? Che se vogliamo ragionare anche dalle cose di questa sera, poi magari entriamo, siamo tutti portati ad entrare nelle tecniche, se vogliamo ragionare anche le cose di questa sera, vuol dire che bisogna avere un orientamento, bisogna avere una traccia, bisogna avere una griglia interpretativa, bisogna avere una visione. Se no cadiamo nel tecnicismo, che è quel tecnicismo di cui abbiamo ammalato il mondo e che non tiene conto che stiamo ragionando di uomini, di persone. Ora non possiamo affrontare un tema delicato come questo, che tocca l'esistenzialità delle persone, in qualsiasi modo noi la leggiamo, senza una griglia orientativa, interpretativa, una griglia di valore, una griglia molto ampia, forse più ampia di quella che anche noi come sindacato abbiamo usato fino ad oggi, che è una griglia che deve tenere conto, ragionando oggi del mercato del lavoro, degli strumenti, del contributo apportato non solo dalla nostra storia, dal cristianesimo, ma anche dalle altre religioni. teniamo presente oggi, e noi lo sperimentiamo ormai tutti i giorni, che in Italia il mondo del lavoro è multietnico, multiculturale, multireligioso. È una cosa inedita, nuova, nuova dal punto di vista delle culture che si incrociano. bisogna tenere conto di queste nuove culture che si intrezzano, che interpretano, che valutano il lavoro, dell'apporto della cultura etica, per vedere se siamo ancora in grado, in una società che tende quasi inesorabilmente purtroppo a forme di nichilismo, a ridefinire alcuni tratti che ci aiutino poi a interpretare le cose che facciamo. perché se ci manca questo, saremmo anche dei bravi tecnici, ma alla fine non produrremo cambiamento, non produrremo valore, non saremo in grado di dare orientamento alle cose. Ed è un po' la malattia che c'è anche nel sindacato, il prassismo per la prassi o cose di questa natura. Io credo che ancora permangono, o bisogna sforzarsi perché permangono attorno al tema del lavoro alcuni principi che occorre nelle cose che facciamo valorizzare. Il primo principio è che l'esperienza lavorativa è per l'uomo un'esperienza fondamentale, che lo lega allo sviluppo e alla trasformazione del mondo, ma lo lega anche allo sviluppo della sua persona. Qualsiasi tipo di lavoro fa crescere. C'è stato qualcuno che ha teorizzato l'ozio creativo anche in Italia, no? Ma con l'ozio creativo non è che si va molto lontano. Poi non so quanto è creativo l'ozio, perché sarebbe una grande discussione da poter fare. Cioè in pratica il lavoro non è un'esperienza marginale, ma ciò che consente a ogni individuo, a qualsiasi individuo, di qualsiasi colore, di qualsiasi situazione, di qualsiasi abilità possa mettere in campo, anche i diversamente abili rientrano in questo tema. ne parliamo poco, di sentirsi parte di un processo, di un progetto, di un cammino. Cioè essere pellegrini, non dei vagabondi. Dell'esperienza lavorativa dunque bisogna tenere conto sia sul versante a monte, costituito dal rapporto che lega la mansione lavorativa alla persona del lavoratore, sia del versante a valle che è costituito dal contributo che questa mansione apporta al resto della società. Cioè l'attività lavorativa è ambivalente, vale per me e ha una dimensione sociale. E io ne devo tenere conto di tutte queste due peculiarità. Non posso tenere conto solo della parte sociale, se no faccio diventare il lavoro una merce. E se il lavoro è mercificato, la dimensione umana è sconfitta. Potrei fare anche un bellissimo mercato del lavoro. Ma se l'unica condizione con cui io leggo il lavoro è quella che si vende e si compra, attraverso la legge della domanda e dell'offerta vengo meno a quella dimensione individuale e personale che invece è necessaria per analizzare e guardare le cose. E pertanto ogni esperienza lavorativa, individuale o collettiva, deve essere considerata sempre su questi due aspetti e collocata all'interno del contesto socio-economico e culturale in cui si svolge. Non posso dire era così e resta così. Se ho dei principi, se ho dei valori, se non ho delle ideologie, devo avere il coraggio, perché parto da questi principi, da questi valori, da questa visione dell'uomo, da questa visione del lavoro, la capacità di confrontarmi, di collocarmi dentro i cambiamenti che incontro. La differenza fra la visione ideologica e la visione valoriale è questa, che è profondamente diversa. E non è che nel nostro Paese questo sia superato, tutt'altro, tutt'altro. Ma se io ho una visione valoriale, anche ragionando di cose così concrete, allora sono disponibile anche a rischiare, perché so qual è il parametro con cui io vado e rischio alcune cose. Per cui non mi alzo dai tavoli, ci sto. Questo io credo, e questo vale anche qualora in una società si determinasse un ridimensionamento dell'esperienza lavorativa. Guardate, c'è una profonda trasformazione. Quando io dico la parola lavoro, la prima immagine che mi viene in mente è quella del lavoro industriale. Non è più così anche il lavoro industriale. Per cui siamo dentro una metamorfosi del lavoro che sconvolge, almeno da un punto di vista di un sindacalista nato e cresciuto dentro una realtà industriale, ne sconvolge alcuni elementi dell'orientamento. Ma è proprio per questo che devo mantenere una visione che il lavoro è centrale nell'esperienza della persona, che lo fa cittadino, e che bisogna tenere sempre conto, anche nelle momenti più difficili, al fatto che le esigenze personali e sociali finora espresse da questo modello di lavoro devono permanere anche quando sono altri modelli. Ecco perché credo che siamo proprio a un crinale importante per la nostra dimensione sociale e di prospettiva e che pertanto anche la riflessione che finora noi abbiamo concentrato sulle forme tradizionali del lavoro, sui suoi significati, dovrà sempre di più affrontare il tema delle nuove forme assunte dal lavoro e verificare come esse possono essere ricollocate in un contesto sociale, sindacale e contrattuale che valorizzi la persona, la sua partecipazione. E non si tratta solo di tutelare. Vedete, nel gergo sindacale normalmente si parla di diritti e di tuteli. Noi vorremmo aggiungere un altro termine, promuovere, far partecipare, creare una cittadinanza più piena, andare oltre. In questo senso mi va bene lo slogan non un posto ma un percorso. perché ho un desiderio di un cammino che va e che va oltre. Dove al diritto si accompagna un'obbligazione, cioè l'assunzione di una responsabilità che io persona esercito nel fare il lavoro ma anche dentro le situazioni e le condizioni del lavoro. Che è il tema di quale democrazia, di quale democrazia economica oggi si pone di fronte a noi. e che credo che noi dobbiamo guardare con molta attenzione ai grandi cambiamenti che sono intervenuti, al modo con cui cambia la figura tradizionale del lavoro subordinato e autodiretto, di come si affacciano nuove figure di lavoro, il lavoro autonomo, il lavoro individuale, di come si affacciano figure di modalità totalmente nuove di lavoro. E allora qui bisogna incominciare a pensare a quale dimensione ridò, a quale senso, a quale significato e pertanto a quali coperture in modo che anche lì dove il lavoro diventa diverso da quello che ho conosciuto, i suoi diritti, le sue libertà siano mantenute salvaguardate. Perché non è sempre detto che un lavoro autonomo è un lavoro più libero. Tante volte è economicamente più subordinato del lavoro subordinato e pertanto ho il dovere, anche qui se parto da alcuni elementi di valore, di dire quali sono, qual è la determinazione della libertà per quel lavoratore, per quel lavoro che io devo mettere in campo oggi. E qui, anche qui, tempo determinato, tempo indeterminato. È chiarissimo che noi dobbiamo creare un sistema in cui vi sia una continuità della possibilità lavorativa. Perché se è vero che il lavoro aiuta alla realizzazione della mia persona ed è contributo alla mia presenza nella società, non posso negare a nessuno questa opportunità. Ma questa opportunità deve essere un'opportunità non subordinata, ma sprigionante elemento di libertà, di creatività, di valorizzazione di sé, della propria professionalità, del suo modo di essere. e qui, anche, entra dentro questo tema che tormenta, che è quello della flessibilità. La mia organizzazione, la CIS, non ha mai avuto contrarietà ideologiche alle forme flessibili. Sì, i sindacalisti fanno un po' fatica. È sempre meglio avere un bel posto fisso di otto ore al giorno per quaranta ore alla settimana in un certo posto, per carità, è il massimo, si governa meglio l'Ambaradam. Quando la cosa diventa più frammentata diventa più difficile anche fare il sindacato, per carità. Però non l'abbiamo mai guardato con timore. Anche perché molte forme di flessibilità hanno aiutato la crescita della professionalità, molte forme di flessibilità hanno determinato una capacità imprenditiva diversa, molte forme di flessibilità hanno sono state esigite dai lavoratori. Provate a pensare è giusto che un lavoratore non possa avere la possibilità di tempi sabbatici, di un distacco per la possibilità di lavori di cura, per la cultura, per valorizzare se stesso. Allora la ragione della flessibilità è in altri termini. Certo che c'è anche una flessibilità negativa che è sulla quella indotta solo ed esclusivamente per risparmiare in termini di costi. Ma non è la flessibilità in sé l'elemento negativo. Occorre contestualizzarla nella sua situazione se no diventa un'ideologia. Ecco perché allora vanno valorizzati anche qui tutta una serie di elementi che consentano anche momenti di flessibilità con quelle garanzie per cui la flessibilità non scivoli dentro una condizione di precarietà o di debolezza. certo sono altre considerazioni potremmo fare se guardiamo le modalità delle attuali solo che quando abbiamo ragionato di questi cambiamenti abbiamo cominciato a dover fare i conti con un tentativo di modalità soprattutto di tipo normativo e soprattutto che hanno cercato di regolare tutto per legge io credo che anche qui qualche elemento qualche paletto bisogna mettere va benissimo la legge ma noi continuiamo a pensare che più che la legge vale di più il modello contrattuale vale più la negoziazione la contrattazione perché determina quelle flessibilità che sono più utili alle persone che sono più utili alle imprese che sono più utili a una realtà pertanto mentre respingiamo forme di deregolazione selvaggia non possiamo neanche pensare a forme di una riregolazione pesante mentre l'idea è quella di un leggi quadro che consentino poi lo sviluppo della contrattazione della negoziazione dell'articolazione cioè della libertà della società di determinare alcune realtà e alcune condizioni inoltre quando parliamo di mercato del lavoro occorre sempre renderci conto che se vogliamo che le persone siano in grado di stare dentro questo mercato nuovo più flessibile più articolato più mutato occorre arricchirne la loro capacità e pertanto il tema della formazione della formazione continua e permanente non della formazione una tanto non della formazione solo quando mi serve ma tenere le persone costantemente aggiornate e credo che siano gli sforzi che bene o male si sono messi in campo attraverso gli enti bilaterali attraverso gli enti della formazione che certo fanno fatica a partire ma che incominciano a cercare di dare alcune risposte a queste cose ecco perché allora tracciare il quadro della riforma del mercato del lavoro che è venuta avanti dagli anni 90 a oggi dai provvedimenti treu la legge Biagi non è un esercizio facile e bisogna stare attenti anche qui a tranciare giudizi a spanne o a chilometri come si usa normalmente per dire tutto sbagliato tutto giusto io credo che siamo anche qui dentro un processo di cambiamento che è in progress che non è ancora compiuto in quanto si è ancora in attesa che si compia tutto quel lavoro di implementazione a cui sono chiamati le parti sociali il sindacato gli imprenditori e altre forze e sono quelle rimandi alla contrattazione che noi abbiamo chiesto anche durante la discussione di questa legge ma non era la nostra un tentativo di non fare di non cambiare ma era la voglia di assumersi quella responsabilità di un governo dei processi che compete a un sindacato moderno più contrattazione meno normativa legislativa perché poi alla fine le normative legislative diventano ipostatiche fossilizzano le situazioni mentre la contrattazione ha una flessibilità interiore perché quella contrattazione possa cambiare con la legge sappiamo bene come è lunga anche se cambia il mondo ci arriviamo sempre dopo e più tardi ma c'è l'esempio per uscire dal sistema centralista che abbiamo ereditato dal fascismo quello corporativo del diritto del lavoro e c'è stato il bisogno del coraggio della CIS attraverso il lancio della contrattazione articolata rompendo uno schema di un contratto nazionale erga omnes o cose di questo genere che pure perdurava anche lì ci dissero che tradivamo l'unità della classe tanto perché la storia si ripete sempre purtroppo ma anche qui ecco perché noi torniamo sempre a ragionare sul modello della contrattazione allora la posizione della CIS sull'incieve delle modifiche che hanno interessato il mercato del lavoro è sempre stata di grande attenzione interessata alla modernizzazione di un mercato del lavoro ingessato che non era più in grado perché bisogna dirlo di rispondere alle esigenze dei mutamenti è stata una posizione articolata in quanto alla necessità di nuove regolazioni si sono sottolineate anche alcune forzature la contrarietà a provvedimenti che davano più potere alla parte imprenditoriale cioè avremmo preferito veramente proprio per questo che più tante regolazioni fossero demandate in modo più esteso alla contrattazione anche perché la nostra reattività all'invadenza legislativa è abbastanza nota e credo che questi siano gli elementi ora con i provvedimenti tre o con la legge bianca si introducono significative modifiche nella situazione però anche qui bisogna dire alcune cose con molta chiarezza è giusto rifarci a Biaggi ma lui era consapevole che le riforme che proponevano avrebbero avuto delle grandi incidenze e non è un caso che lui presentava un insieme complesso la legge che porta il suo nome non ha colto il progetto complessivo e riformista di Biaggi ma solo una parte e di fatto è una legge monca bisogna dirlo con chiarezza infatti lo diceva anche Sacconi ricordando che alcuni pezzi mancano perché il libro bianco che rimane non l'abbiamo mai attaccato il libro bianco presentava un impianto molto più largo ed esteso che cercava di conciliare l'innovazione con la necessità del cambiamento con una serie di nuove tutele e di promozioni fino ad arrivare alla democrazia economica perché quello stava scritto nel libro bianco ecco sono molti allora a mio parere gli elementi che mancano ma vorrei richiamarne due che sono i più urgenti e la cui mancanza rende debole e contraddittorio alcuni degli ultimi interventi un impianto di ammortizzatori sociali lo diceva anche Sacconi questo rende più debole anche le flessibilità che si sono introdotte perché manca uno strumento di accompagnamento quando parliamo di ammortizzatori sociali parliamo della disoccupazione che deve avere una certa consistenza parliamo di un impianto formativo che accompagna il lavoratore dal posto di lavoro a un altro posto di lavoro che lo aiuti al reinserimento e alla ricollocazione parliamo di uno statuto dei lavori ovvero di uno strumento in grado di garantire l'esercizio di diritti e di libertà per tutti quei lavoratori che non rientrano nelle tipologie della legge 300 statuto dei lavoratori perché c'è bisogno anche per questi degli elementi della libertà per poter esprimersi perché va bene la flessibilità ma attenti se alla flessibilità non si accompagnano elementi di garanzia di sicurezza di autotutela perché non mi è consentita quella libertà quella garanzia quella tutela non c'è e a questi due andava aggiunto secondo il libro bianco la riforma del modello contrattuale e la partecipazione dei lavoratori e credo che anche su questo elemento era un progetto riformista compiuto certo da discutere credo che non essere andati tutto su questo terreno abbia indebolito la proposta riformista che c'è in questa legge noi sulla legge abbiamo dato dicevo un parere articolato abbiamo sicuramente apprezzato in termini di positività tutta la partita che riguarda la materia di servizi e l'impiego il miglior rapporto tra domande offerte di lavoro quello che diceva prima Ferlini di questo accordo fra noi la compagnia delle opere va perché siamo interessati a essere lì a gestire queste cose ma è possibile che un sindacato si preoccupi solo di gestire quando la gente esce e non ci sia mai quando la gente deve entrare come se noi fossimo gli accompagnatori al disastro arriva il sindacalista si chiude no arriva il sindacalista e si apre cioè questa sarebbe diciamo la modalità nuova allora noi siamo stati interessati siamo molto d'accordo su tutta la partita che riguarda la bilateralità sulla maggior stabilizzazione del lavoro attipico il superamento dei coordinati continuativi del contrasto al lavoro irregolare in particolare nelle edilizie private che rispondono ai nostri obiettivi di forma poi ci sono alcuni elementi che non abbiamo sicuramente condiviso che vogliamo cambiare attraverso la negoziazione alcuni passaggi li abbiamo fatti avevamo delle perplessità sulla sommistrazione abbiamo fatto un accordo e stiamo andando avanti se la interpretiamo tutti questa legge come un lavoro in progress probabilmente anche quegli elementi di negatività che abbiamo espresso li possiamo correggere ma sicuramente il dato vero è quello che noi dobbiamo mettere in campo una capacità gestionale più alta di quella che noi abbiamo messo in campo soprattutto per quanto riguarda i servizi al lavoro il mercato per quanto riguarda le cose che qui diceva anche Guglielmo dal punto di vista dell'intervento delle regioni le borse del lavoro i servizi all'impiego gli enti bilaterali la formazione cioè una capacità cioè di stare dentro ecco perché dico non dobbiamo avere dei grandi timori certo poi sul lavoro sul partai in qualche problema l'abbiamo manifestato continuiamo a manifestarlo però complessivamente se stiamo dentro una logica di un lavoro in progress noi la possiamo cambiare spero che vada così anche per la previdenza noi non abbiamo condiviso come si è chiusa la partita sul sistema previdenziale c'è una buona parte da correggere io spero che quei decreti attuativi si sia in grado di poter correggere anche quella parte sbagliata della riforma previdenziale grazie io ringrazio tutti gli interlocutori e do la parola solo per una comunicazione all'assessore Guglielmo in chiusura di questo nostro incontro io vorrei ringraziare per tutto il lavoro che vi ho accennato che la regione Lombardia ha fatto soprattutto un mio collaboratore che è molto tempo è venuto qua a questi meeting e vi ha partecipato come fruitore in molti altri vi è venuto ha partecipato come era oratore era previsto un suo intervento venerdì su un tema che gli era molto caro che era quello della scuola per cui io ritengo che in questo luogo e visto che quando parliamo di lavoro parliamo soprattutto di uomini che si confrontano di amicizia che nascono avendo io lavorato con lui io non possa esimermi di ringraziare Marino Bassi per tutto il lavoro che ha fatto in questi anni che purtroppo perché purtroppo il 6 di agosto per una disgrazia in montagna è venuto meno lasciando una moglie e due figli era il minimo che potessi fare ma ho voluto farlo e vi ringrazio gli organizzatori che hanno dato questa possibilità perché ritengo che il lavoro che noi facciamo sta dentro un sistema che è relazionato e quindi io devo molto a lui e vi chiedo ancora vi ringrazio per la pausa che avete voluto dimostrare e testimoniare per questo mio dire rispetto al lavoro che ha fatto con lui grazie Marino Marino aveva lavorato anche con noi in compagnia delle opere per portare avanti molte delle nostre idee sul lavoro per questo come compagnia delle opere annunceremo nei prossimi giorni sul sito come poter contribuire per assicurare almeno delle borse di studio che portino i figli a quel livello di conoscenza di capitale umano che sicuramente gli avrebbe assicurato grazie